apriamo ora una parentesi su uno dei titoli più attesi della prossima stagione è un first person shooter e questo già riduce la rosa ad un paio di candidati circa ma se diciamo Infinity Ward si capisce subito che il protagonista è lui Call of Duty Modern Warfare 3 Infinity Ward e Sledgehammer Games hanno unito le forze per dar vita a questo nuovo attesissimo episodio della serie cui spetta il non facile compito di confrontarsi con i dati di vendita stellari dell'ultimo Black Ops firmato dai Treyarch che ha venduto per oltre un miliardo di dollari in sole sei settimane debolendo il record di Modern Warfare 2 tra i fan di Black Ops e i puristi dei Modern Warfare c'è una rivalità quasi calcistica ma la sfida in questo caso per Infinity Ward sarà su due fronti oltre a quella domestica con Treyarch ci sarà anche quella forse più insidiosa lanciata dai dice con Battlefield 3 chi lo spunterà ne sapremo di più sicuramente tra pochi giorni con l'E3 di Los Angeles dove torneremo certamente sul tema Call of Duty e parleremo anche di Battlefield 3 per ora godetevi il primo trailer con scene di gameplay di Call of Duty Modern Warfare 3 chi lo spunterà ne sapetevi il primo trailer con l'E3 di QTSS Non servono le nazioni più potenti sulla Terra per scatenare il prossimo conflitto globale. Basta la volontà di un solo uomo. Basta la volontà di un solo uomo.